Ciao! Questo è il video sui prodotti terminati del mese di agosto e vi faccio vedere Ho terminato questo bagnoschiuma della Vidalla al talco liquido Questo qui che sono a 500 ml Questi di Vidalla mi piacciono molto perché comunque sono dei bagnoschiuma cremosi che fanno una buona schiuma Mi idratano abbastanza la pelle, niente di esagerato, però devo dire che non mi dispiacciono Preferisco quelli più piccoli perché comunque mi piace cambiare profumazione spesso Infatti ho terminato anche questo qui, Avena e Latte di Riso Che ne avevo terminate già due il mese scorso e ne ho utilizzate un'altra perché questo adoro proprio la profumazione L'Avena si sente molto, mi piace veramente tanto 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 Poi ho terminato lo shampoo menta e timo Non so da dove esce tutta quest'acqua Lo shampoo menta e timo, questo qui della BioQ Non mi ricordo chi mi aveva consigliato di mettere l'acqua all'interno della confezione Poi quando era verso la fine perché la confezione è di plastica abbastanza dura E pensavo di non riuscire a finirlo tutto Invece con l'acqua all'interno della confezione si riesce a far uscire comunque tutto il prodotto che c'è all'interno È un buonissimo shampoo Mi lava bene i capelli Nonostante qui non è indicato di utilizzarlo diluito Io comunque lo diluisco perché ho notato che utilizzato non diluito Tende a sgrassarmi esageratamente la cute Quindi mi fa l'effetto troppo aggressivo Questo è per capelli grassi e forfora E mi sono trovata veramente molto bene Ho mille mille shampoo da utilizzare Per adesso non lo riacquisto Ma comunque è un buonissimo prodotto Poi ho terminato l'olio di mandorle Questo di Caloderma Questo io l'ho preso da Tigota in offerta a 5€ E mi è piaciuto proprio tanto L'ho utilizzato sul corpo Ne sto utilizzando un'altra confezione Che è diciamo Ne ho utilizzate più di metà anche dell'altra L'ho utilizzato sul corpo Per idratare la pelle Perché io con il caldo non riesco veramente a mettere niente Nemmeno sul corpo Perché la mia pelle tende proprio a sudare tutte le creme che vado a mettere Questo devo dire che è Ha una buonissima profumazione Però quello è tutto molto soggettivo A me piace l'odore di mandorle E questo è veramente buono come profumazione È un olio di mandorle Come ingredienti a solo L'olio di mandorle Il profumo è il toccoferolo E io lo utilizzo sulla pelle umida Una volta uscita la doccia Lo massaggio sul corpo E poi quando metto l'accappatoio L'accappatoio toglie tutto l'olio in eccesso Mi è piaciuto proprio tanto Anche per il prezzo Perché comunque quello dei provenzali Riesca a trovarlo sui 5 euro Solamente quando è in offerta Questo dovrebbe essere il prezzo proprio dell'olio Perché ho visto che tutto l'espositore Aveva sopra il prezzo 4,99 Anche per la confezione Mi piace perché è in plastica dura E quindi anche se vi scivola Avendo le mani unte Che vi cade Non vi fate male Non fate danni Perché quello dei provenzali È di vetro La confezione Ho sempre paura Che se mi scivola dalle mani Magari mi si spacca su un piede Poi ho terminato Lo Extreme Energy Facial Scrub Il micro peeling Questo qui dell'Anonique Questo è terminato abbastanza velocemente Perché già ve ne ho parlato in altri due video Magari vi lascio da qualche parte Non mi piace per niente Perché non è né un peeling Né uno scrub Né un gommaggio Niente di niente Non ha granelli all'interno È semplicemente una crema Infatti io lo tenevo in doccia Le utilizzavo semplicemente come Detergente per il viso Da utilizzare sotto la doccia Non taglierò la confezione Perché assolutamente non mi è piaciuto È vero Costa poco Però non fa assolutamente Quello che promette Non sono io che sono troppo esigente Sotto questo punto di vista Ma non ha realmente granuli all'interno Quindi Uno scrub O un peeling Che non abbia granuli Non ho capito che scrub Vabbè Poi Ho terminato Lo struccante occhi Questo della Anthos Anche questo Ve ne ho parlato in un altro video Che magari Vi lascio sempre a qualche parte Purtroppo Ero piena di aspettativi Anche da questo Ma non mi è piaciuto Per niente Perché Mi brucia da morire gli occhi E mi lascia la sensazione di vista Appannata Come prodotto in sé Non è male Perché per struccare Strucca veramente molto bene Toglie tutto Però purtroppo Mi brucia da morire E Ho fatto veramente fatica Per terminarlo Ma Lo utilizzavo Aggiungendo Un po' di acqua Sul dischetto Mettevo questo E poi andavo a mettere Due o tre gocce Di acqua micellare Per attenuare Diciamo Un pochino Questa sensazione No Purtroppo Non mi è piaciuto Per niente Avvero L'ho pagato poco Però Niente Poi Sempre della Nonic Ho terminato L'Extreme Energy Body Scrub Questo qui Questo È Praticamente La stessa Identica cosa Dell'altro Quello per il viso E anche questo Non mi è piaciuto Per niente È Praticamente Finito Non ce n'è più Niente Però Ha dei granuli Veramente Minuscoli E Ce ne sono Pochissimi All'interno Che non scrabba Assolutamente Niente Anche questo Lo tenevo in doccia Lo utilizzavo Diciamo Quasi tutte le docce Giusto sulle gambe Così Me lo passavo Ma Non fa assolutamente Niente Sì Costa poco Però Uno scrub Che non scrabba Per me Non ha Non ha Senso Poi Ho terminato Vabbè I miei soliti dischetti Questo qui Questi qui Della Simpli Io Prendo sempre Questi Mi ci trovo Comunque Molto bene Non si sfaldano Non si rovinano Mi piacciono Poi Ho terminato Lo struccante Occhi Express Due in uno Questo qui Della Garnier Questo mi è piaciuto Tantissimo Quello bifassico Che ha la parte Viola E mi toglie Qualsiasi cosa Strucca Veramente tutto Non mi brucia Gli occhi Non mi da problemi Però Penso di Ricomprarlo Se lo trovo In offerta Perché Sono 125 ml Quindi mi dura Realmente poco Perché Comunque Io di prodotto Sul dischetto Ne metto Anche la giusta quantità Non è che ne metto Esageratamente Però Mi strucco Tutti i giorni E 125 ml Mi dura Un mese Un mese Una settimana Proprio A voler esagerare Anche perché Adesso Per esempio In estate Io mi trucco La mattina Per andare al lavoro Poi la sera Quando torno a casa Mi strucco Mi faccio la doccia E se la sera Si esce Mi ritrucco Quindi Quando torno a casa Ristrucco gli occhi E rifaccio la doccia No Rifaccio la doccia No Rifaccio la mattina Però Comunque Capita che mi strucchi Anche due volte al giorno In estate Quindi È durato veramente poco L'ho pagato 3 euro In offerta Ma altrimenti Ho visto che costa Sui 4 E 50 E trovo Che sia veramente Troppo Per 125 ml Di prodotto Insomma Poi Ho terminato L'idrolato di rosa Bio Devo capire Che confezione perde Che mi sta bagnando Il mondo intero Ho terminato Questo qui L'idrolato di rosa Bio Della saponaria Mi è piaciuto molto Non amo La profumazione Di rosa Però Mi è piaciuto Come prodotto L'ho utilizzato Sia solo Come tonico Ho utilizzato Da solo Sia Miscelato Con l'idrolato Di salvia Della saponaria L'ho preferito Miscelato Con quello Di salvia Perché notavo Che l'azione Era Era forse La cosa migliore Che serviva Per il mio viso Lasciavano Comunque Insieme La pelle Morbida E Ho notato Che Mi aiutavano Utilizzati insieme Ancora di più Contro Le imperfezioni Poi L'ho terminato Ce n'era rimasto Davvero pochissimo L'ho terminato Utilizzato Da solo Perché Non sarei riuscita A rimetterlo Insieme all'idrolato Di salvia Insomma Però Mi è piaciuto Come prodotto Magari Ecco Vi deve piacere L'odore A me L'odore Di rosa Non fa impazzire Però Non è un odore Che persiste Tantissimo Sul viso Poi Ho finito Il Bio Point Body Care Crema corpo Anticellulite Snellente Caffeina Pura Sinfit Proteine della soia Estratto di guaranà Escina Lotus marino Kigeli Africana Carnitina Questo qui Questo ve ne ho parlato In un video Dei bocciati Che magari Se mi ricordo Vi metterò a qualche parte Non mi è piaciuto Per niente Ripeto Come ho detto In quel video Non mi sarei mai aspettata Un miracolo Ovvero che Massaggiato Sulla zona Sarebbe sparita La cellulite Assolutamente Perché so che Comunque va abbinata A un'alimentazione A dell'attività fisica Che io non faccio Però Mi aspettavo Almeno Un effetto Tonificante Sulla pelle Anche momentaneo Cioè Di passarla E che La pelle Risultasse più tonica Ma anche per un'ora Un'ora e mezza Insomma Proprio anche Un effetto momentaneo Mi bastava Ma non mi dava Nemmeno quello Quindi Non mi è piaciuta Forse Non mi è piaciuta Anche perché Penso che Una crema Anticellulite Non deve essere Una crema Secondo Il mio punto di vista Non deve essere Una crema Di facile assorbimento Perché Probabilmente La cosa migliore È Il massaggio Questa Diciamo che Si assorbeva Abbastanza velocemente Quindi Da massaggiare Non è che C'era poi tanto Non mi è piaciuta Non mi piace Nemmeno l'odore Perché Sa Di prodotti Per capelli Sa Il profumo Che si sente Quando entrate Dalla parrucchiera E non mi è piaciuto Poi Magari Magari Sul viso Anche Anche l'ho messo Sotto la doccia Quindi lo facevo Ogni tanto Sotto la doccia Però L'ho utilizzato Anche come Maschera Quindi Ne mettevo Una quantità Maggiore Lo lasciavo Agire Sulla pelle Poi andavo A massaggiare E facevo Anche comunque Poi Ho terminato I cerottini Questi qui Clear up Strip Zona T Pelli da normale A miste Questa per rimuovere I punti neri E le impurità A me non mi piacciono Questi della Nivea Perché noto Che su di me Non fanno Non riescono A rimuovere molto Preferisco Di gran lunga Quelli della Essence Non mi fanno Impazzire Questi Sinceramente Poi Ho terminato Questa maschera Contorno occhi Aloe vera Tè verde Caffeina Questa di Shaka Che avevo preso Penso l'anno scorso Quando sono riuscita A passare da Upim Che da me È molto Molto lontana E Avevo preso Delle cosine Di Shaka Boh Non l'ho trovata Una maschera Abbastanza inutile Allora La cosa Che mi piace Di questa È la confezione Perché ha il tappino Apri e chiudi Che voi Riuscite comunque A non far rovinare Il prodotto Quando lo aprite Sono 15 ml Sono riuscita A farci comunque Molte applicazioni Però Ho provato A metterne Una Poca quantità Lasciarla agire Come c'è scritto Qui dietro Sulla pelle Accuratamente pulita Applicare uno strato Di maschera Sul contorno occhi Lasciare agire L'impacco Per 10-15 minuti E successivamente Asportare L'eccesso Di prodotto Con una velina Ne ho messo Una leggera quantità Lasciata agire 15 minuti Ma Niente Ne ho messo Una quantità maggiore Lasciata agire Ma io Non ho trovato Un effetto Né Del contorno occhi Disteso Niente di particolare È una maschera Che costa 2 euro Però Non ho trovato Niente di particolare Preferisco Di gran lunga Quelle di Sephora Poi Ho terminato Questa Questa di Geo Martalasso Scrub Rimodellante Era questo Che perdeva Nutrimento cutaneo Effetto seta Con sale marino E polvere di caffè Questa Me l'aveva regalata Francesca All'interno Sono 85 grammi Io non avevo mai provato Questo scrub Di Geomar E mi sono Innamorata Perché Scrabba Veramente Bene Mi lascia La pelle Comunque Me la sento Morbida Una volta utilizzato Fa Il suo lavoro Devo ripassare Sicuramente A comprarlo E mi è piaciuto Proprio Tantissimo E ho trovato Anche molto comoda Questa confezione Perché Con una confezione Che sono 85 grammi Io sono riuscita Comunque a fare Tutto Tutto Il corpo E me ne era rimasta Una leggera quantità Che l'ho rifatta Sulle gambe In un'altra doccia Quindi Mi è piaciuto Proprio Tantissimo Questo scrub Non avevo mai provato Penso di essere rimasta L'unica Non averlo provato E Mi è piaciuto Proprio tanto Poi Ho terminato Il solvente Questo oleoso Senza acetone Della Parisienne Italia Io utilizzo Sempre L'acetone Questo L'acetone Il solvente Questo di Parisienne Perché sono quelli Che riescono a reperire Meglio E più economici E li trovo Realmente efficaci Ora ne ho riprese Una la cheratina Ma Questo a me piace Però capisco Che non può piacere A tutti Perché lascia Comunque una sensazione Un po' oleosa Un po' di unghie Unte Diciamo A me non dà fastidio Perché una volta Tolto lo smalto Tanto comunque Vado a lavare le mani Quindi non mi dà fastidio Però capisco Che è una sensazione Che non può piacere A tutte Una volta Questi si trovavano Sui 50 centesimi Al massimo Ora da me Si trovano solo A 99 centesimi A meno Non si trovano più Poi Ho terminato Qui dentro C'era L'olio Prima pelle Che mi aveva dato La Simon È un olio Detergente Io l'ho Adorato Quest'olio Perché Mi sentivo Una volta Dopo averlo Utilizzato La pelle Veramente Morbida Liscia Pulita È stato È stato È stato Un ottimo Prodotto Comunque Andava a pulire Bene il viso E lasciava La pelle Veramente Morbidissima Distesa E soprattutto Una volta Passato Sul viso Non c'era La sensazione Di pelle Unta Quella sensazione Realmente Oleosa È un olio Ma non va A ungere Troppo Comunque La pelle Mi è piaciuto Tantissimo Poi Ultimi Due Campioncini Sì Uno È questo Qui Di Esi Erba Ben Fresh Gel Questo Anche questo Ve ne ho parlato In un video Trovo Che Non faccio Assolutamente Niente Dovrebbe Essere Una crema Che Dà sollievo Per gambe Gonfie Stanche Ma Su di me Questo sollievo Non l'ho sentito Non Ha un retrogusto Di limone Nonostante All'interno Credo ci sia Mirtillo Sì Anche nel mirtillo Ananas E aloe Boh Su di me Non ha fatto Questo effetto Con un campioncino Sono riuscita A farci Quattro applicazioni Non è un prodotto Che andrei ad acquistare Perché non mi è piaciuto Proprio L'altra Che ho terminato È Questo campioncino La Dr. Organic Bioactive Skincare Organic Dead Sea Mineral È la Mood Mask Anti-age E Rivitalizzante Dovrebbe essere Questa qui Purtroppo Penso di essere Allergica A qualche Componente Che c'è All'interno Perché Ho provato A metterla Sul viso E il viso Ha iniziato A prendermi Fuoco Ma Cioè Veramente Tanto Mi bruciava Sono andata A toglierla Avevo tutta La pelle Arrossata Ma l'ho tolta Diciamo 30 secondi Dopo averla Messa Ho avuto La pelle Tutta Arrossata Ora Non so Se dipenda Da questo Probabilmente Sono io Che Mi ha fatto Reazione Qualche Componenti Magari Fatemi sapere Se l'avete Provata Se anche a voi Ha fatto Questo effetto Oppure Dipende Solo Da me Vi ho fatto Vedere Tutto E ci vediamo Al prossimo Video Ciao